vuole prendere lei lo scrauso quello buono però buono e dove sta perché tu non vedi qua vedi un po dove fa sopra no no niente prendo io allora allora come si chiama gym gym lettore mf suono paranormale sanità mentale 25 per cento secondo me sta nella o dj speriamo hai già visto no perché si chiama gym all ecco allora madonna battute proprio però ci aveva ragione perché lì al camino a meno che non sia dall'altra parte cioè vicino al pianoforte dovrebbe stare qua però mi è stato anche detto sempre da schoamazzer che il microfono direzionale non è proprio precisissimo in questo da qua infatti guarda appunto che hai visto no suona sono le mf quant'è 5 5 5 ho sentito una litata e 5 5 damo se aspetta che lascio qualmi corpito il dove vuoi chiude aspettatemi che lascio la telecamera si si vieni questo è il demo lo dico io sarebbe bello però ma che che mi piace sempre a me sempre nelle cassette potevo lasciare la spara flash per terra allora abbiamo fatti e mf abbiamo portato alle sferi a mf toglie il demone quindi non si preoccupa meno male meno male ma c'è la telesferica cosa dice ma cosa dice che non lo ma cosa fa ma dove la messa che nel corridoio mi spieghi ma eccola che io non vedo niente ecco io vedo vedo il pianoforte il popetto nero legato no mi faccio lo screenshot allora dovevo parlare con il signor ma io vedo così così il signor fasmofobia deve cambiare un po di cose per questo e adesso la metto anche per si schiaccia qui e non vedo più non vedo più niente vabbè portiamo il libro e il doz io porto di un trapescetti ok ok non c'è la torcia come non c'è la torcia ho preso con la scrausa ma com'è non c'è la torcia è solo questo ho trovato ah vabbè la porta del gabbicesso è aperta scrivi sul libro la temperatura come siamo messi no non c'è decisamente proprio il termometro è quello lì però un pochino più preciso right on the book please ho sentito una porta aprirsi e qui c'è l'impronta l'impronta dov'è sulla porta sulla porta fotografi la vede io faccio la foto ma non vedo niente faccio un po da profusione ma non vedo niente c'è anche la tavola guigia dice ma dove di qua aspetta molla si è vero è vero molla la tele la telesferica la come cazzo si chiama deve andare in panico e se no poi perdiamo no non me la dà perché vale solo la prima volta che scatti vabbè ma scattato 45 volte anche se non l'ho vista magari sorpresa l'ho presa si andiamo ad ascoltare una foto andiamo aspetta abbiamo una prova sì allora ultravioletti g in gorio oba che mai allora tra best ultravioletti è rimasto anche il demore ma non è vero il demore se ne è andata io non ho messo le mf livello 5 scusate allora la spirit box la possiamo levare perché tanto non ce l'ha nessuno rimangono le il gorio il gorio è impossibile capita due volte beh a noi è capitato due volte l'oni quindi non è detto non è detto non è detto dexter mi sta dando ragione dexter infatti anche l'ho sentito lo si è appunto e quindi non 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 contraddite dexter se si incazza diventa una belva c'ha proprio la faccia da belva soprattutto quando dorme sul divano che carino fortunatamente sta a pollare ovviamente sì ho capito allora il libro l'avevamo messo no mi ha messo il libro sì sì l'ho messo sul banchetto accanto al piano guarda ha chiuso la porta ha chiuso la porta del garage e sfere di luce ma vogliamo usare la tavola luigi e se non c'è più quel bug è che risponde dopo un'ora e mezza che gli fai la domanda con la spirit si faceva giusto sì 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 no 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 la spirit no con la tavola luigi senza la spirit devi solo premere una spirit mi dici ma si è impasticcata lei si impastica no non mi sono impasticcata perché con la tavola luigi ma pure tutte devi impasticcata io l'ho fatto l'enna senti sì sì no l'avevo appena presa ci vuole un attimo ah ok ok sa che prima qualcosa prima che sale la pillola mi aspetti un attimo metto un'altra telesferica c'è va quella monnezza che vi lasciamo in giro quando anche intanto non siamo noi a pulire capito ecco dexter ha da ridire c'ha ragione allora no gli sparaflescetti le avevano ma gli sparaflescetti che abbiamo già con tutte le camere abbiamo visto allora il libro niente vediamo la temperatura di congelamento stava scendendo dove la tavola qui ragazzi però è anche in garage guardate che ha buttato tutto tutto per terra e la tavola e non mi sa io sì però deve avere le mani deve avere le mani una mano libera cacinisti io la metto sulla piazza qui si trova più comodo sul tavolo non lo so no qua non facciamo in tempo a scappare però come si piazza con la g con la g buttano giù a terra con la g si ok poi fai e no il sinistro tasto sinistro vabbè quello che è hai ma che hai ciao dove sei noi in che stanza sei da risposto subito che ha scritto toilet ah sei qua allora ma no ragazzi ma sta un po ovunque allora scusa è però qua la temperatura sta scendendo sta scendendo sta scendendo sta scendendo hanno corretto la spirit box allora perché adesso risponde sì ma qui ha tirato robe io effettivamente qua è ma vaffanculo se dici vaffanculo però va va qui mi andrei in questi casi ok no ha preso me ma di nuovo una bambina ha un cavolo va che brutto che è no ma ha preso a me dei fuori no non abbiamo fatto in tempo a mettere il fantasma ha preso tutte e tre no io sto fuori ah bene allora possiamo mettere il fantasma ma io come sono fuori sto fuori pure io ma come ho fatto a prendere Lara fuori ma che ne so sto fuori io ciao buonasera ma guardala ma no ma com'è possibile aspettate che fotografo i vostri cadavere bravo aspetta questo devo fare uno screenshot no ma poi è morta malissimo cioè stavo cercando di riparare il lume a terra madonna ma non è che si è distrutta la cosa la tavola a luigi può essere boh no deve vedere come la vedo io poi cioè è fantastico sì io ho fatto lo spin sta da bando al contrario ma come è che mi ha preso dei fuori boh comunque si è incazzata e voleva prendermi ma chi è che ha avuto il cassetto ah beh che poi voglio dire stava usando la luigi a dev doveva prendere dev invece ha preso noi due io infatti mentre che ha iniziato la caccia e vedevo che le acusti si mettevano a mano ho aperto subito la porta e ho iniziato a scappare certo ma non avevamo dubbi beh però abbiamo fatto il terzo obiettivo dai eh sì mia adesso c'è da ricomprare tutto io io penso che sia un Obache un'altra volta Obache dici? no ma noi non abbiamo messo una telecamera non era Obache prima era il Gori per me è il Mailing perché dici? boh eh ma sul libro ha scritto non si capisce se sul libro ha scritto io non penso io vorrei rientrare però sto a zero io più che altro non vedo io stavo mettendo il libro ma non mi ricordo nemmeno dove l'ho messo per scappare aspetti che vado a controllare si ha distrutto la tavola Luigia si vede ah la la distrutta è vero è vero io tre volte tre volte ho detto goodbye che cazzo vuoi? ma penso che perché avevamo la sanità bassa non si fa no ma non ci ha dato neanche gli ultravioletti io ho fatto foto a profusione ah interazione si ce la date ce la date no interazione no interazione allora il libro non l'hai messo Giune? si si l'ho messo eh io non lo vedo da nessuna parte non c'è neanche una cosa di luce o forse si forse mi è rimasto in mano non lo so aspetta che controllo controllo Gin ah vedete i termometri eh no non c'è la temperatura si era fermato sullo zero ma io dico Miling a sto punto che dite? Miling ce l'ha le impronte che faceva il Miling? MF livello 5 libro spiritico eh eh è silenzioso quando caccia però è molto vocale attivo si potrebbe essere però emettono più frequentemente suoni paranormali che stavo portando il libro in bagno ma forse non ho fatto in tempo a metterlo lui il libro non è riuscito a vederlo non c'è non c'è non ha fatto in tempo Lara a metterlo aspetta se lo metto sulla sogliola sulla sogliola ah ma tu lo vedi il libro? io non vedo nessun libro guarda che sei a zero Dev eh Dev sei a zero ma mica entro ah aspetta no comunque io morta fuori io pure ho messo Miling vorresti prendere Lena hai messo tu? no io ho messo lo Bacche ok oh non me lo fa mettere eh ma non sta lì però lui vicino al mio cadavere right in the book right right io non lo vedo il libro che hai messo ecco io ha aperto in bagno il rubinetto vabbè qua dobbiamo scegliere io mi prendo il rischio di mettere lo Bacche giusto perché la prova più non qua che che faceva? eh c'ha gli sparaflescetti come prova come prova più importante però ha camminato sul sale eh mi sembra di sì 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 mi pare di sì 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 davanti al bagno quindi ste prove uniche no secondo me è il Miling ok o il Gino potrebbe voi che mettete? io Bacche io metto Miling chiudo? yes chiuda chiuda attento mi tocca di nuovo ricomprare tutto quanto perché sono morta non troppo eppure io che avviso una fasciadissima ma no ma stavolta proprio non è bagato però il Phantom non c'era perché l'ho viste le impronte ma sì c'erano no aspetta aspetta a terra c'erano ma io l'ho vista tu l'hai la mano sulla porta è è è Grazie.